ben trovati amici di fano tv questa è la rassegna stampa oggi è giovedì 27 ottobre 2022 come sempre leggeremo i giornali dal resto del calino dal corriere adriatico con gli articoli di cronaca locale vedremo quello che è accaduto nella giornata di ieri quello che si preventiva nella giornata di oggi iniziamo come sempre con l'almanacco e vediamo chi si festeggia oggi ecco la grafica appare l'immagine di un papa questo è uno dei tondi che appare nella basilica di san paolo fuori le mura a roma dove nel cornicione che correda tutto l'alzato della navata abbiamo le immagini dei papa questo è sante varisto papa visse nel primo secolo il suo pontificato durò nove anni ebbene si distinse perché divise o però dal punto di vista amministrativo nelle parrocchie romane le divise la diocesi la divise in parrocchie e in titoli propugnò la santificazione del matrimonio ordinando che venisse celebrato pubblicamente benedetto da un sacerdote si confrontò purtroppo con le persecuzioni e lui stesso fu vittima di una di queste una di queste ordinate dall'imperatore traiano e appunto morì e ucciso appunto dai e dalle guardie dell'imperatore sante varisto papa questo è il santo di oggi vediamo le previsioni del tempo il meteo oggi ci dice che sulle marche sarà un tempo solleggiato tempo stabile tra sole e nubi di passaggio foschie nebbie nelle ore più fredde lungo le coste nell'entroterra il clima si mantiene mite le temperature uscideranno tra i 13 e 19 gradi leggermente inferiori rispetto ai giorni scorsi i venti ispireranno da una direzione di nord nord ovest sulle coste con una tensione debole mentre all'interno da nord est il mare si mantiene poco mosso oggi apriamo per primo il corriere adriatico e vediamo l'articolo di apertura sulla pagina di fano dove vediamo l'esito di quella bella iniziativa che si è svolta sabato scorso con il cuore nel fango un concertone che si è dilungato per diverse ore all'interno della rocca malatestiana con un pubblico veramente numeroso ma emozionato esaltante allegro che ha dato il sapore a questa iniziativa un'iniziativa di carattere benefico che è stata organizzata per raccogliere fondi per le famiglie alluvionate una straordinaria energia in titola oggi il corriere adriatico ecco l'aiuto agli alluvionati il concertone alla rocca ha incassato 23.400 euro ebbene una cifra considerevole che verrà poi suddivisa tra tutte le famiglie delle varie località in modo particolare quella di cantiano che ha subito il disastro dell'alluvione quasi 18.000 euro ha detto l'assessore tien lucarelli derivano dai biglietti e dalle donazioni liberali altri 3.000 dagli incassi devoluti alla causa del cosiddetto food tracker i camioncini che sono stati poi dotati di cocina e 3.750 euro dalla vendita di magliette ricordo e dai dischi portati da alcuni gruppi musicali sono stati tutte cifre sono state tutte cifre queste che verranno poi utilizzate per aiutare le famiglie in stato di bisogno questo un articolo è un'iniziativa importante che dato il suo successo dovrebbe essere replicata volevano rubare gasolio è stato sventato un furto ai danni di una ditta di una ditta molto nota che produce pasta nel nostro territorio quella di montagna i sensori delle telecamere della vigilar hanno rilevato la presenza di intrusi e il sistema d'allarme entrato subito in funzione gli ha fatto fuggire non sono riusciti a rubare niente ma grazie ai sistemi di allarme i ladri ebbene sono andati via con le pive nel sacco così possiamo almeno dire è stato documentato tutto dalle foto che sono state scattate dall'impianto e quindi poco dopo sono arrivati appunto gli agenti della vigilanza privata e non hanno trovato più nulla perché poi i ladri sono fuggiti dopo un'attenta ispezione anche da parte del titolare si tratta di una dependence che doveva essere secondo le intenzioni della ditta montagna di vita ad agriturismo ebbene è emerso che il tentato furto è fallito i ladri non sono riusciti a prendere nulla e neanche a manomettere lo sportello dello gasolio perché il gasolio era appunto una uno delle mire del bottino dei ladri volevo rubare gasolio in una cisterna ma non ci sono riusciti e poi il Corriere Adriatico parla ancora delle terme dopo la presentazione del progetto che ha suscitato dei veri e propri entusiasmi e martedì scorso al teatro masetti il progetto è bellissimo il progetto è esaltante c'è però un problema c'è insomma non tutte le rose poi sono senza spine anzi a te le hanno e la spina di questo progetto e sono quei 50 posti letto di ortopedia la cui destinazione viene dibattuta viene dibattuta la proprietà delle terme vorrebbe che fossero assegnati alla casa di cura che fa parte del complesso delle terme in realtà il consiglio comunale di fano si è espresso diversamente il consiglio comunale vuole che quei 50 posti letto di ortopedia fossero assegnati all'ospedale santa croce poi abbiamo delle rivendicazioni anche per villa fastigi c'è una voce che circola anche per la rsa di villa fastigi che verrà gestita da un altro gruppo privato insomma ci sono diversi problemi tanto che anche il resto del carlino questa mattina vediamo qui il titolo mette in guardia anzi chi è che mette in guardia è lo stesso maurizio natali che è il portavoce della società proprietaria delle nuove terme di carignano quelle che dovrebbero essere costruite dice attenzione non fate scippare questi 50 posti da pesaro perché pesaro è lì pronta è lì pronta per apropriarseli e porli a villa fastigi i 50 posti convenzionati di ortopedia nelle mire di san savini san savini e la società di villa fastigi minardi invece deox ex macchina che non si vede ma c'è a questo momento dice siano assegnati al santa croce clinica carignano alto là di natali fano non si faccia scippare da pesaro insomma questi 50 posti letto vengono dibattuti ma non si vorrebbe che poi e batti e ribatti alla fine vada a monte anche il progetto questo verrebbe escluso perché lo stesso natali ha detto noi andremo avanti anche se non ci assegnano la convenzione di questi 50 posti letto faremo il nostro progetto e poi vedremo ognuno si attribuirà le proprie responsabilità e vedremo poi cosa dirà la gente cambiamo argomento cambiamo argomento e passiamo a fossombrone per quanto riguarda il corriere adriatico in questo caso scattano due ricorsi al tar temiamo per l'ambiente si tratta dell'impianto di bitumazione le autorizzazioni impugnate dall'articolo 32 e da metauro nostro sono due associazioni ambientaliste che avanzano un ricorso al tar è stato annunciato ieri questo ricorso contro le autorizzazioni concesse per l'esercizio dell'impianto di bitumazione a ghilardino di fossombrone in una nota la cooperativa sociale articolo 32 rende noto di aver impugnato la delibera del consiglio comunale che approva la variante urbanistica finalizzata alla realizzazione dell'impianto di messa in riserve recupero dei rifiuti produzione di calcestruzzo e produzione di conglomerati bituminosi proposti dalla ditta boscarini costruzione in località ghilardino insomma questa ditta questa questo progetto che potrebbe essere troppo impattante per l'ambiente viene appunto rifiutato da queste due società con un ricorso al tar le piste a frontone le piste per quanto riguarda gli impianti sciistici procurano una forte erosione non è certo colpa nostra affermano gli ambientalisti impianti sciistici sulla alluvione l'alleanza ambientalista replica ai gestori siamo stanchi di fare sempre da capro espiatorio per le responsabilità altrui lo ha detto l'alleanza delle associazioni ambientaliste regionali replicando ai gestori delle stazioni sciistiche del catria nerone sarnano frontignano e bolognola che con un gusto del paradosso così dice il corriere adriatico avevano scaricato la colpa sugli ambientalisti così per quanto riguarda le precipitazioni l'effetto delle precipitazioni eccezionali del disastro dell'alluvione dello scorso 15 settembre insomma gli effetti di questa alluvione che hanno inciso anche sui percorsi sciistici delle montagne preapenniniche e poi siamo a Senigallia dove vediamo che si sono celebrati anzi si sta si celebrano oggi i funerali della donna soffocata dal marito si tratta di Valeria morta soffocata oggi funerali di Valeria intitola il giornale il marito è stato messo ai domiciliari non può andare ai funerali ebbene oggi si tiene l'addio alla settantasettenne uccisa senza dolo dalla mano di Marino Giuliani permesso negato resterà a casa il marito dunque non potrà partecipare i necrologi sono stati pubblicati ieri è il primo nome che compare nell'annunciare la morte è proprio quello del marito stesso che si trova ora agli arresti domiciliari accusato di amicidio preter intenzionale per aver accusato la morte della moglie con un gesto che ha spiegato agli inquirenti è andato oltre le proprie intenzioni ebbene è un problema e un dramma anche individuale questo di questo delitto che si è diciamo così che è andato a finire oltre alle intenzioni del dell'assassino stesso il marito che voleva zittire che voleva calmare la moglie ma ne ha procurata la morte ed ora diamo un'occhiata alla pagina di pesaro del corriere adriatico dando un'occhiata alla apertura eccola qua si tratta del caro bollette ovviamente quasi tutti i giorni questo questo argomento ormai ci ritorna ed è proprio diventa diventando veramente una ossessione non lasceremo nessuno al freddo restrizioni mirati in ogni istituto in questo caso si parla dell'incontro che il proprio il presidente della provincia giuseppe paolini ieri ha tenuto con i dirigenti e i presidi degli istituti superiori gestiti dalla provincia incontro tra paolini e i presidi vediamo un attimo il titolo eccolo qua si pannelli solari al campus e nuove condotte per l'acqua piovana la provincia e le sue scuole superiori potrebbero diventare una comunità energetica se tutti i provvedimenti sono coordinati e sono razionali una comunità energetica che punta a raggiungere l'autonomia nella produzione di luce e calore grazie alle fonti rinnovabili puliti come i pannelli solari fotovoltaici sugli istituti in particolare al campus di pesaro e altre iniziative green per il risparmio contro gli sprechi per fermare sia le polveri sottili soprattutto come scappatoia per le bollette sul riscaldamento ebbene si sta parlando non si vuole ledere l'autonomia di ogni istituto ma si sta parlando di settimana corta e soprattutto di razionalità di razionalizzare gli ambienti all'interno delle scuole se c'è magari un'aula in un piano e un'aula in un secondo piano si cerca di accorparle per non riscaldare per non illuminare tutti i due piani quindi ottenere risparmio altro articolo che riguarda questo argomento si parla della casa di riposo padre damiani a pesaro già l'argomento era stato sollevato nella giornata di ieri dai giornali rette stop all'aumento si era ventilato quest'aumento perché veramente il bilancio stava superando ogni limite il sindacato interviene sulla decisione della padre damiani di aggiornare i costi dal 23 si rischia l'effetto domino sulle altre case per anziani le famiglie sono già in affanno le rette vanno bloccate le famiglie non possono sobbarcarsi ulteriori spese e poi c'è il rischio di un effetto domino che ha un momento anche in altre case di riposo questa è la linea dei sindacati e non potrebbe essere più netta all'indomani dell'annuncio fatto dalla dall'amministrazione di questa istituzione che non riesce più a fare quadrare i conti e beh una cosa poi è le richieste una cosa poi è riuscire a soddisfarle si tratta comunque di posizioni concrete di problemi che devono essere risolti a base di soldi e non di chiacchiere aperti due cantieri alla bicipolitana intervento quasi per 700 mila euro collegheranno vismara e torraccia fino a via paganini seguendo l'argine del foglia e dentro la prossima settimana scusate dentro la prossima estate da catabrighe a vismara si potrà andare in bici fino alla torraccia e lungo il fiume foglia ebbene una bella struttura una bella infrastruttura questa che sarà un bel collegamento anche dal punto di vista ambientale la tempistica viene indicata dall'assessore alla viabilità belloni incrociando il cronoprogramma di due interventi uno che è appena partito è un altro che verrà avviato entro un mese all'altezza del sottopasso ferroviario e che consentirà di unire dal punto di vista ciclabile i quartieri a nord ovest della città quindi una bella infrastruttura dal punto di vista sia della mobilità ma anche dal punto di vista turistico e ambientale giriamo ancora pagina e vediamo come per la piazzetta di via giordano bruno spariscono 11 parcheggi e quando si toccano i parcheggi ovviamente la gente insorge sono avviati i lavori al palazzo privato poi c'è la demolizione del chiosco dell'ex marcelleria e quindi per sistemare il cantiere per forza di cose questi posti macchina devono essere temporaneamente fatti inagibili una grande gru sta svettando sull'area cantiere di via giordano bruno accelera la ricostruzione del palazzo privato oggetto di lavori di riqualificazione anche dal punto di vista energetico e qua invece abbiamo un articolo di cronaca violenze e intimidazioni alla ex perseguitata anche su youtube 20 telefonate al giorno un vero e proprio mobbing e oltre 200 mail un pesarese chiede il patteggiamento i video postati su youtube dove la minacciava gli appostamenti e i tentativi di entrare in casa tua ebbene questi i reati compiuti da un cinquantenne pesarese che è stato rinviato a giudizio ed è accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata una pesarese di 42 anni una storia questa durata quattro anni con qualche tire molla interrotta definitivamente dalla donna e proprio questa interruzione ha creato questa reazione in consulta da parte del suo ex a quel punto lui ha iniziato a mostrare atteggiamenti morbosi e ossessivi e ora dovrà risponderne di fronte al giudice piazza del popolo torna la ragnatela le pietre storiche sottratte alle ruspe stanno procedendo i lavori per la pavimentazione di piazza del popolo la piazza centrale di pesaro dove poi sono stati rinvenuti anche reperti archeologici corpi umani inumati appunto sotto la superficie ora si sta rimettendo a posto le antiche pietre quelle che risalgono al 1600 costituendo il disegno di ragnatela attorno alla fontana e si cerca di salvare appunto le pietre originarie cercando di non metterne di nuove perché sono pietre che sono fanno parte della storia della città il comitato è soddisfatto la ripavimentazione è giunta ormai alle ultime battute la piazza del popolo tra breve potrà riprendere il suo aspetto ordinario un bel aspetto dominato ovviamente dal palazzo del del palazzo malatestiano dove ha sede la prefettura ad urbino ad urbino lo sfratto seguito dai servizi sociali ma rifiutava sempre ogni sostegno la sessora foschi interviene in questo caso dopo un episodio shock della resistenza con il lancia fiamme ve lo ricordate questo episodio era stato portato alla ribalta nella giornata di ieri quando un uomo aveva resistito all'intimidazione dello sfratto richiudendosi in casa e minacciando gli agenti della polizia con un lancia fiamme quello che si usano per fare le saldature e aveva posto anche delle bottiglie qua e là nel suo appartamento ricolme di benzina ma anche di acido muriatico per fare resistenza se eventualmente i poliziotti fossero entrati dentro la sua abitazione per fortuna al momento in cui lui ha aperto appena appena la porta per parlare con i poliziotti quest'ultimi sono entrati nell'appartamento e hanno reso l'uomo lo hanno immobilizzato e quindi lo hanno reso inoffensivo l'assessora foschi interviene dopo questo episodio l'uomo è in psichiatria lo sfratto seguito dai servizi sociali ha detto quest'uomo non sarà abbandonato perché oltre al suo atto eclatante è vittima anche di una situazione dal punto di vista sociale molto molto incresciosa. A questo punto diamo un'occhiata al resto del Carlino dove l'apertura è dedicata come abbiamo detto ad un seguito ad un sequel della presentazione del progetto delle Terme qui abbiamo la dichiarazione di Maurizio Natali portavoce del gruppo Romani che ha fatto una bella presentazione di tutto il progetto e qui vediamo una foto suggestiva di quello che sarà le Terme. A prima vista le Terme qui non si vedono perché si confondono bene con il paesaggio ebbene le Terme sono queste sono in questo punto qui si vede alcune qualche luce apparire qui magari è una fotografia presa all'alba o al tramonto vediamo che ancora le luci sono accese è una simulazione un rendering che è stato fatto comunque il dato ambientale è stato tenuto molto in considerazione qui abbiamo le diverse strutture che fanno parte del prossimo sistema delle Terme abbiamo la palazzina che sarà adibita ad incontri a mostre e quindi ad un aspetto sociale poi abbiamo l'albergo abbiamo l'albergo con la spa abbiamo poi il ristorante e poi le suite insomma abbiamo tutte le strutture che sono state incluse nel progetto. Attenzione questo progetto questa volta se si arresta probabilmente sarà la fine delle Terme quindi bisogna cercare di fare il possibile cercando di soddisfare tutte le posizioni per farlo giungere alla fase esecutiva. Malore al porto è incendio sventato un uomo si accascia in barca mentre ha una pentola sul fuoco ma per fortuna le sue invocazioni di aiuto sono state ascoltate da un uomo che era sulla banchina che ha chiamato i soccorsi e sono intervenuti il 118, i pompieri e il personale della guardia costiera. L'uomo è stato salvato ed è stato scongiurato l'incendio perché la pentola lasciata nel fuoco poteva mandare a fuoco tutta la barca con il cuore nel fango un successo raccolti 23.400 euro al concertone. L'evento organizzato alla Rocca per supportare le popolazioni colpite dall'alluvione accolto nel segno 2000. I biglietti staccati aiuteremo un centinaio di famiglie bisognose, molte di Cantiano. È stato detto questo è il momento topico della consegna dell'assegno. E qua vediamo gli organizzatori insieme a alcuni esponenti dell'amministrazione comunale. Il sindaco Massimo Seri, l'assessore Etienne Lucarelli, abbiamo l'assessore Tinti e l'assessore Cucchiarini. Premio La Fortuna d'Oro via alle candidature. È stato ripristinato dalla Presidente del Consiglio Comunale di Fano questo premio che vuole rendere merito a tutte le persone originarie di Fano che si sono distinte a livello internazionale per promuovere la propria città. Ebbene questo premio fa ricorso anche alle segnalazioni dei cittadini. Le candidature possono essere segnalate fino alle 12 del 30 novembre e consegnate a mano o inviate per mail a presidente.consigliochiocciola.comune.fano.pu Sul sito del Comune si potrà scaricare l'apposito modulo. Importante al momento della compilazione del modulo indicare la motivazione della candidatura e del voto assegnato. Insomma tutti i cittadini possono concorrere a segnalare un personaggio di loro gradimento benemerito perché possa essere poi gratificato dalla consegna di questo premio che è uno dei premi più ambiti, più importanti che sono stati istituiti nella città di Fano. Alluvione maledetta il coraggio di Saul. Saul è Saul Sacchi che è un istruttore di equitazione il quale ripercorre i drammatici momenti della sera del 15 settembre quando ha intervenuto a soccorrere la madre del piccolo Mattia per salvarla. Mattia purtroppo è scomparso tra il fango, tra i flutti, tra l'alluvione mentre la madre si è salvata. Questo è un articolo di una testimonianza importante che desta commozione ma anche riflessione. E poi vediamo che a Mondolfo si è inaugurato invece il centro disabile intitolato a Don Aldemiro. Domenica la cerimonia nei locali della Rosa Blu, struttura nata proprio grazie all'impegno del sacerdote. Don Aldemiro è l'indimenticato amatissimo parroco del paese cesanense ma anche di Fano perché è stato cappellano dell'ospedale Bartolini ma successivamente anche del Santa Croce. Tutti coloro che sono stati degenti al Santa Croce magari anche in maniera grave ricordano le opere di conforto, l'impegno di conforto alla vicinanza di questo sacerdote Don Aldemiro. A Urbino si parla ugualmente del caro energia, anche il Comune corre ai ripari. La crescita spropositata di costi e di bollette costringe il Consiglio Comunale ad approvare una consistente variazione di bilancio, un aumento di spese per 387 mila euro. E voglio segnalarvi anche una notizia che riguarda Pesaro dove per il caro bollette abbiamo anche le lavanderie in difficoltà. Bollette da 30 mila a 300 mila, questo è l'aumento di tutte le bollette che deve pagare una lavanderia. La lavanderia galleggia tra i rincari, dice il titolo, il costo in questo caso dell'Adriatica di Marotta, parla il responsabile, crollo delle commesse ma è difficile trovare anche il personale. Ed è una lavanderia questa che ha una vasta platea di clienti, addirittura sono 800 e vanno da Ancona a Cesena, quindi è una lavanderia industriale di particolare importanza. Con questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento domani alle ore 7 e per le notizie del giorno ad occhio alla notizia il Tg di Fano TV alle ore 20 e 30 di questa sera. Questo per il momento è tutto, a risentirci. Grazie.